La trazione posteriore, i tre piccoli, mentre la squadra avversaria gioca con giocatori un po' più fisicati, anche se poi Masciadri e Malaventura sono tutti o due giocatori che giocano lontano da canestro e tirano bene da tre punti. La chiave sarà sicuramente tenere il giocatore che ha segnato adesso, Smith, che è... Chiaramente Legnano deve provare a correre perché a ritmi imbruttiti e bassi è molto più brava Ravenna che qui schiaccia ancora con Smith il 4-0, due canestre al ferro. Nelle corde dell'attacco legnanese non sarebbe stato nulla di inventato, di forzato. Qua invece è troppo facile questa penetrazione di Deloce e Smith là sotto, qua ancora da prepotente, da padrone. Aveva metri di spazio e è sbagliato. Rimbalzo senza difficoltà per Ravenna, si butta dentro Deloce, non arrivano chiusure. Rimessa laterale, battuta da Raschi, ora per Deloce che prova ad andare fino al ferro qui. Salta completamente la difesa, due secondi. Da giovanili a seguire Frassinetti sopra a quel blocco piazzato sul gomito. Non so se è a posto fisicamente, vediamo che ha delle... ...fuori e vediamo se Smith cambia qualcosa nell'attacco. Rientrato anche Masciadri e fa sicuramente più paura fuori dai tre punti. L'attacco apre bene l'area Ravenna e poi quando si apre si fanno gli aiuti, si lascia libero sotto qualcuno e a Smith non devi lasciare quello spazio. Adesso una palla persa e prendiamo noi un parziale di 4-0 dal time out. E costringe Ferrari a un suo proprio time out per fermare il gioco. Navarini, tiro corto sul primo ferro, Smith è lì a rimbalzo, Deloce già di là, prova a correre anche Malaventura che riceve. Attacca poi il rientro di Packer, riapertura per Casini. Ora Masciadri, circolazione perimetrale, si va da Smith dentro l'area. Bel movimento, molto compatto, ha i limiti dell'infrazione di passi. Davvero grande movimento dentro l'area. Minuti e mezzo di primo tempo, Deloce. C'è Palermo in marcatura su di lui. Altro picker roll giocato con Smith, prova a buttarsi dentro Deloce, riapertura per Masciadri, tiro da tre. Piazzato, senza ritmo, ma preso con grande confidenza. Allora rientra al di sotto della doppia cifra di svantaggio Ravenna, 44-36. Maiocco, palla in post basso per Raivio, che vuole attaccare Casini, stoppata di Casini. Qui iniziativa prevedibile da parte di Raivio. E dai time out, Ravenna è sempre uscita alla grande. Palla ora per Deloce, picker roll centrale con Smith, si butta dentro Deloce. Buona chiusura di Packer, ma Deloce qui voleva fare canestro ed è meno sei. Ma è chiaro che non deve essere un alibi per Raivio come non deve esserlo per nessuno di Ravenna. Deloce tripla centrale a bersaglio, 8-0 di parziale. Non scherzo così. Adesso vediamo chi ha più gambe, guardando semplicemente i minutaggi. Legnano ha ruotato meglio i propri giocatori, ha avuto più giocatori. Attacco da Globetrotter con la palla che non sta mai ferma, che esce sempre dalle dita molto rapidamente. Qui Deloce che cerca il suo compagno e Smith porta via tutto quello che trova ad altezza siderale. Bravissimo a rollare. Prima, alla fine un plus minus di un punto solo perché poi alla fine ti porta a casa rimbalzi. non forza quando capisce che non è la sua giornata e con Rebus per le altre squadre. Perché se il lungo fa un mezzo aiuto sul taglio di Raivio, Packer è libero e quel tiro ce l'ha. Se non lo fa, Raivio fa canestro come ha fatto prima. E qua c'è Masciadri che però sta tenendo in piedi la sua squadra perché ogni volta che ha un briciolo di spazio lascia andare la tripla. E sì, Masciadri davvero incredibile quest'oggi, percentuali altissime, soprattutto ad ogni canestro di Packer ne risponde uno di Masciadri. Allora la riapertura di Frassinetti direttamente per Casini. A tutto campo va Deloce, vuole subito time out. Viene in attacco con Smith che consegna praticamente a Deloce. Deloce vuole attaccare Martini. Gli prende il tiro sulla faccia, dà tre punti. Allora perfetta paretà, 59 pare. Ebbene, le buone percentuali di Ravenna da tre punti nel secondo tempo, nel terzo quarto, sono sicuramente la causa di questo recupero Ravennate. Masciadri poi ha messo i canestri importanti in tutte le volte che c'è stato un tentativo di allungo di Legnano. E la partita adesso è qua. Buon tiro di Martini, creato bene, bene da Navarini. Occhio però a non beccare contropiede come spesso succede quando si tira dall'angolo e non si è pronti. Ma l'avventura rinuncia e si va di nuovo da Deloce che sta giocando tutti i palloni di questo attacco e lo sta facendo particolarmente bene. Sono sicuramente istanti importanti per consolidare il margine. Pick and roll centrale tra Malaventura e Cicognali. Palleggio, resta e tiro di Malaventura. Adesso Ravenna in gas. Fa più cinque. Ravenna in gas. Legnano che non riesce ad andare da Frassinetti. Bravo Malaventura. E poi come spesso capita quando un attaccante non tocca il pallone, difende con poca voglia. E di là ha difesa molto pigra. Mentre Malaventura adesso sta cominciando a difendere su Frassinetti in maniera seria. Qua forse un contatto che poteva non essere fallo. Bravo Frassinetti a mandare al bar. E a dare un regalare, un tiro dall'angolo a Martini. Ma due buone soluzioni di Martini. Ma poi la palla deve anche entrare. E in questo momento non lo sta facendo. Mentre Ravenna sta vedendo il canestro più grande di quello di Legnano. Malaventura dalla medesima mattonella di prima. Che è poi la sua preferita. Fa lo spogliatoio. Però l'ha messo. È sinonimo di quella cattiveria mentale di cui parlavamo prima. Vediamo se adesso riusciamo anche a fermare l'attacco di Ravenna. No perché Malaventura trova un tiro. Però la partita è ancora qua. E adesso siamo in mano ai ragazzi Martini e Navarini davanti. E soprattutto a Frassinetti che deve assolutamente prendere iniziativa. Ma De Loce entra da giocare. La volata finale mette decisamente avanti l'ora sì. Di otto lunghezze De Loce per Masciadri. Malaventura. Col palleggio aperto. Scarico per De Loce. Tre secondi per tirare. Lo fa lo scadere dei 24. A bersaglio anche qui. Ravenna da sotto. Mentre Ravenna decide di camminare. Di allungare i tempi. Lo può fare. Perché sia Malaventura che De Loce. Sanno dettare i ritmi della partita. E qua regala Malaventura un ottimo tiro da tre punti di Casini. Il segnale di tutti i giochi rotti delle ultime azioni. Ora si torna da Malaventura che vuole attaccare Packer. Palleggio arresto e tiro di Malaventura. Eccellente canestro dai cinque metri. Nel terzo e quarto periodo. Ora Malaventura ad attaccare ancora Packer. Palleggio arresto e tiro. Altro bersaglio di Malaventura. Imarcabile. Incredibile. Onesti. Circa tre secondi. Malaventura vuole gestire fino allo scadere del possesso offensivo. Arriverà a doppio di Raivio. Rotazione in ritardo da parte di Frassinetti. Ma palla quasi persa che carambola nelle mani di De Loce. Improbabile canestro. L'ho mandato a bersaglio.